Ieri volevo raccontare tutto a mamma. Sono uscita dalla mia stanza, sono entrata in salotto, sicura di quello che avevo dovuto fare. E l'ho trovata lì, seduta sulla poltrona, che scorreva l'on di Facebook in continuazione. Tutto quello che sono riuscita a dirle è stato... Oggi la prof mi ha interrogata e ho fatto scena muta. Lei, all'inizio, non ha detto nulla. Poi, senza nemmeno distogliere lo sguardo dal cellulare, ha detto, di strattare. Beh, ti rifarei alla prossima. Lì mi sono bloccata. Non sono riuscita a dirle altro. Sono tornata in camera mia, mi sono distesa sul letto e ho iniziato a ricordare, a tornare indietro con la mente a quando ero bambina. Ogni tanto mi diverto a farlo. Mi fa stare bene. La mia fiabba preferita è sempre stata la bella addormentata nel bosco. Ma sin da piccolo ho odiato al finale. Non ho mai capito perché alla fine qualcuno svegliasse Aurora. E se lui non voleva essere svegliato. Se voleva ancora sognare. Perché prima o poi qualcosa, qualcuno ci sveglia dai sogni. Perché non ci lasciano dormire ancora un po'.